La sponda sud del fiume Tordino nel tratto immediatamente ridosso della foce sarà passata al setaccio dai volontari per rimuovere e portare via i rifiuti che vengono abbandonati di notte. L'appuntamento è per domenica mattina dalle nove in poi con il ritrovo nel piazzale del cementificio di via Romualdi all'altezza dell'innesto con via Defense. L'iniziativa è stata organizzata dalle guide del borsacchio sollecitate dai residenti di Cologna Spiaggia che si sono attivati in prima persona per affrontare un problema di assoluta incuria in civiltà in un'area di pregio come quella del Tordino. Parteciperanno i ragazzi della podistica Cologna, il WWF, la FIAB, la IAP e guardie ambientali per una giornata pubblica di pulizia dei sentieri e delle aree prossime al Tordino. Già in passato le squadre di volontari erano scese in campo per rimuovere quintali di rifiuti abbandonati. Lo scopo è accendere un riflettore su un'area di pregio naturalistica, ha spiegato Marco Borgatti, direttore delle guide del borsacchio. Purtroppo preda da decenni dei fenomeni di scarico abusivi di rifiuti edili, industriali e domestici, ed assoluta incuria un'area sottoposta a vincoli a tutela della biodiversità che trova nei fiumi e foci riparo invernale o luoghi di sosta per la migrazione. L'area è da sempre, tra le altre cose, meta di escursionismo ridotto, viste le condizioni, ma che in futuro, se attenzionata o oggetto di interventi, potrebbe diventare un volano per la salvaguardia del territorio, dando la possibilità ad appassionati, turisti e residenti di visitare quella che è a tutti gli effetti un'oasi naturalistica, anche se non riconosciuta ufficialmente. Questa zona, al pari di quella del Vomano, adeguatamente curata e sviluppata in maniera sostenibile, potrebbe offrire collegamenti ciclabili fra i territori della vallata del Tordino.